La nostra idea è quella di costituire un consorzio fra Melilli e Priolo per dare la nascita al litorale ionico, come prendiamo esempio il litorale romagnolo, che è un consorzio fra più comuni. Noi vogliamo mettere alla pari Melilli e Priolo, dando ai cittadini melillesi e priolesi gli stessi servizi senza pagare ticket o varie tasse sul litorale. Marina di Melilli rappresenta un asset strategico fra cultura, turismo e tradizione, perché quella zona rappresenta storicamente un posto importante, perché nei tempi che furono era un punto balneare per tutta la provincia e oggi può rappresentare il punto di rilancio del comune di Melilli. Questa è la nostra intenzione, in particolar modo con le attività portuali e le attività di rimessaggio. Quella zona si ci presta e noi abbiamo l'intenzione che questo accada. Oggi siamo qui a fare questa conferenza stampa perché vogliamo dire a tutti come la pensiamo e vogliamo raccontare quello che vogliamo fare da qui in avanti per portare avanti questo progetto su questo territorio. Stamattina si riprende quell'idea che è stata proprio sviluppata in questo luogo un paio di mesi fa alla presenza del sindaco di Priolo, di Melilli, di Siracusa, nonché della presidentessa dell'associazione Assoporto di Augusto. L'idea è quella di andare a riutilizzare una zona che attualmente è assolutamente abbandonata, il litorane di Marina di Melilli, che parte comunque dalla Targia per arrivare fino a Marina di Priolo, che attualmente non è assolutamente sfruttato e invece potrebbe diventare, in un'ottica di visione lunga, il polmone per le attività del porto di Siracusa. Il porto di Siracusa sta completando il suo iter per essere definito e avere le banchine complete e quindi attrarrà molta nautica. Questa nautica non ha solo bisogno delle banchine per la crociera, ma ha anche bisogno di strutture tecniche, quale cantieristica pesante, leggera, di ogni genere. Ed è necessario che queste due attività convivino e che siano in una distanza abbastanza limitata. Quindi l'area che da tanti anni io vado dicendo che è l'area giusta è questa di Marina di Melilli. Inoltre potremmo, in questo più ampio concetto di riqualificazione urbana e anche extraurbana ed industriale, rivedere la possibilità di avere una spiaggia anche per gli abitanti di Melilli. È sicuramente un'attività molto ardua, è un sito inquinato, però con la volontà espressa dal sindaco Di Priolo e anche dal candidato sindaco Giuseppe Carta, mi sembra che ci sono le basi per iniziarne a parlare in maniera compiuta.